L'incidente nella serata di giovedì 18 luglio, poco dopo le 21.30, sulla 4.60 all'altezza di Feletto. Una ragazza di 39 anni di Livarolo Canavese era la guida di un Peugeot 206 che uscita di strada finendo prima di punta nel fossato per poi rimbalzare sulla carreggiata ribaltata. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza della Croce Rossa di Livarolo Canavese, i vigili del fuoco di Bosco Nero e i carabinieri del nucleo radiomobile di Ivrea. La ragazza, subito soccorsa, è stata trasportata all'ospedale di Ciriè, non dovrebbe essere in pericolo di vita. C'è una piccola, un po' di più, un po' di più. Grazie a tutti.